Salve a tutti ragazzi e benvenuti su Soluzioni PC quest'oggi vi spieghiamo come cambiare il funzionamento dei pulsanti di alimentazione del computer vi sarà capitato magari di avere un portatile che quando premete il pulsante di accensione accende il computer ma quando premete lo stesso pulsante per spegnerlo il portatile non si spegne ma va in ibernazione o va in sospensione come fare a rendere il pulsante di accensione anche il pulsante di spegnimento? lo andiamo a vedere immediatamente andiamo su Start, pannello di controllo e clicchiamo su Sistema e Sicurezza in questa schermata andiamo su Opzioni Risparmio Energia eccoci qua, a parte questa schermata in cui c'è la combinazione di risparmio energia quella che sia selezionata è uguale noi dobbiamo andare su Specifica, Comportamento, Pulsanti di Alimentazione ed ecco qui una semplice schermata in cui noi possiamo scegliere che cosa deve accadere quando viene premuto il pulsante di alimentazione nel mio caso io ho messo Arresta il sistema di standard molto spesso è settato su Sospensione in questa schermata possiamo anche scegliere che cosa succede quando viene premuto il pulsante di sospensione questo pulsante non tutti i PC ce l'hanno quindi non so se vi sarà utile o meno detto questo, selezionate quello che volete cliccate su Salva cambiamenti chiudete il tutto e a posto così riavviate il PC per qualsiasi dubbio, per qualsiasi domanda scrivetemi nei commenti e un salutone al prossimo video